Nonostante l'ACA in collaborazione con il Comune di Pescara abbia messo a disposizione due cisterne per rifornirsi d'acqua vista la carenza idrica, i cittadini sembrano snobbare le rastrelliere poste al Pala Rigopiano e al Pala Elettra. Da ieri attivo il servizio dalle 8 alle 20 in questi due punti della città, oltre a un autobotte itinerante a richiesta per rifornire le autoclavi. Eppure i cittadini, nonostante le continue lamentele per la mancanza d'acqua in diverse zone con relativi disagi, non approfittano delle due rastrelliere. Qualcuno pensa che in molti scelgano le bottiglie di acqua minerale da comprare nei supermercati, qui però il servizio è gratuito. Maria Rita Carota, la presidente della Commissione delle politiche sociali del Comune di Pescara. Veramente il servizio è iniziato ieri, quindi da ieri il Comune di Pescara in sinergia con l'ACA riesce a garantire questi punti di distribuzione dell'acqua. Probabilmente o perlomeno speriamo che la criticità sia dovuta solo al fatto che magari i cittadini non erano attrezzati e quindi speriamo che nelle prossime ore in molti possano usufruire di questo servizio, che è importante, siamo riusciti a garantirlo soprattutto per coloro che già da molto tempo hanno problemi con l'approvvigionamento dell'acqua. Quindi speriamo e un appello questo ai cittadini affinché possano usufruire di questo importante servizio. Naturalmente bisogna portare le tanniche per riempire l'acqua, qui c'è un serbatoio, mi ha detto, da 5.000 litri al pala elettra da 3.000, giusto? Sì, queste sono le capienze delle autobotti messe a disposizione e voglio precisare che questo servizio è possibile grazie sicuramente alla disponibilità della protezione civile che attraverso i propri volontari mette a disposizione del personale che è presente dalle 8 alle 20 nelle due postazioni affinché insomma anche l'utilizzo dell'acqua di queste cisterne sia regolato soprattutto quando noi speriamo ci sia anche un po' di fila e quindi ci siano più persone e quindi il loro intervento sarà necessario anche per regolare questa presenza. Ricordiamo servizio ovviamente gratuito e poi l'ACA ha ribadito che si potrebbe andare avanti anche per alcune settimane. Sì, non so se augurarmi che questo non avvenga o meno perché se non andrà avanti noi speriamo che questo sia solo perché l'acqua è ritornata nei rubinetti delle case però ACA ci ha assicurato che comunque il servizio sarà garantito fino a quando continuerà questa emergenza. Grazie 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 Grazie